Ancora buone notizie per il mondo scolastico nella città di Fano. Il Comune ha approvato il progetto esecutivo della nuova scuola materna di Cucurano Carrara che sorgerà a fianco dell'attuale plesso inaugurato il 15 settembre del 2021 in via Biagi. L'edificio, che avrà una superficie di 1692 metri quadri, sarà moderno e all'avanguardia. Conterrà quattro aule per quanto riguarda la scuola materna, due per il nido, un'area di riflessione scolastica dove potranno essere preparati almeno 400 pasti, questo naturalmente significa che potrà essere a messa a disposizione anche di altri poli scolastici, un'aura proprio dove invece ci saranno due aule speciali, una che si chiamerà proprio Aula Magica, ha un volume a due livelli dove i bambini potranno fare tante attività ricreative. L'altra invece è proprio un'aula dove si farà psicomotricità e una caratteristica di questo progetto è proprio che ogni singola aula ha il suo spazio verde pertinente, diviso da una pertica ma i bambini potranno uscire ed accedere ad uno spazio proprio all'aria aperta. Qui ringrazio davvero i tecnici del comune che si sono adoperati dalla prima ora a lavorarlo perché è un progetto comunale, è un progetto molto difficile, parliamo di un finanziamento di 5 milioni 430 mila euro di cui 3 milioni ci vengono dati dal ministero, 2 milioni li abbiamo messi noi come comune e successivamente per le maggiori spese ci sono stati finanziati altri 430 mila euro. Quando si parla di maggiori spese è perché ci sono delle persone dedicate oggi che sono addette a quello che è il discorso del PNRR, quindi tutti i finanziamenti ministeriali per i quali ogni giorno noi compiliamo tanti atti che ci permettono di riuscire ad avere dei rimborsi e aggravare meno su quello che è il comune di Fano. Io li ringrazio fortemente per il lavoro che stanno svolgendo, un lavoro serio di professionalità e di qualità per la nostra città. È un altro passaggio importante per completare le strategie dei servizi educativi nel nostro territorio poi ha aggiunto l'assessore Samuele Mascarin, come in questo caso nei quartieri lungo la Flaminia. Due corpi di fabbrica importanti, uno dedicato in particolare alla rifezione con la produzione di 400 pasti ma anche con uno spazio rifezione a disposizione del polo scolastico da 180 posti e poi una struttura che ospiterà le attuali scuole dell'infanzia di Falcineto e di Cucurano e in più un nuovo servizio che oggi su quel territorio è assente e cioè due sezioni di nido di servizi 0-3 anni che garantiranno un aumento della capacità di accoglienza dei nidi comunali su tutto il territorio comunale ma ovviamente in modo particolare in quei quartieri che fino ad oggi non hanno potuto fruirne. Una scelta importante, un investimento finanziario ma anche concettuale significativo che consente al Comune di Fano di migliorare non solo in quel territorio ma su tutta la realtà fanese l'offerta dei servizi educativi.